Ehi! Ehi! Ti ho portato un caffè! Grazie! Come sta andando? Cioè non ho avuto neanche un cliente oggi! La gente si deve ancora abituare all'idea di una gondoliera! Forse ho sbagliato tutto! Ginobili, right? Yeah! Allora! Ti ho portato! Come te e' un robot allai! Allora! Toi sono! Ti ho portato! Ti ho portato! Ti ho portato! Grazie a tutti. Grazie a tutti.